Sono Gianni Giampietro, sono un giornalista, lavoro in Rai e qui accanto a me c'è Lirio Abate che è un giornalista investigativo dell'Espresso. La parola che andremo a commentare in questa chiacchiata è coerenza, potrebbe essere anche coraggio e come vedremo questi termini hanno parecchio in comune e probabilmente Lirio Abate è una delle persone più adatte a parlare di coerenza e di coraggio. Per i pochi che non conoscono la sua storia sintetizzo brevemente la sua biografia. Lirio è un giornalista investigativo dell'Espresso e anzi aggiungo che la sua presenza qui è anche il frutto della stretta e feconda collaborazione fra il gruppo dell'Espresso e la fondazione di Bagno. Fra l'altro molti di voi sanno che la fondazione custodisce l'intera collezione dell'Espresso. Come cronista giudiziario Lirio ha iniziato a lavorare nei primi anni 90 presso il giornale di Sicilia poi è stato a lungo cronista dell'Ansa. Fra i tanti colpi giornalistici ricordo solo che è stato l'unico giornalista presente sul luogo dell'arresto di Binu Provenzano, del capo della mafia nel 2006 e quindi è stato anche il primo a raccontare questo arresto. Poi dopo l'Ansa ha lavorato anche per la stampa e da due o tre anni mi pare è giornalista dell'Espresso. Ha pubblicato alcuni libri, ricordo l'ultimo, i complici che potete trovare qui anche a Lector in Fabula, un libro scritto assieme a Peter Gomez in cui individua nome per nome tutti gli uomini di Bernardo Provenzano da Corleone al Parlamento. Grazie a questo libro ha anche vinto alcuni premi, il premio Capalbio, il premio Santa Marinella, il premio Paolo Borsellino e poi anche tanti altri premi che adesso non sto a ricordare tutti. Però Lirio non ha ricevuto solo onori, ha ricevuto anche minacce, minacce di morte dalla mafia. Nel 2007, anzi qualcosa di più concreto di una minaccia perché i poliziotti hanno sventato un attentato, avevano lasciato una vettura carica di esplosivo vicino alla sua abitazione, e ha avuto anche il triste privilegio di ricevere delle minacce dal boss Leo Luca Bagarella in udienza durante un processo. Sapete chi è Leo Luca Bagarella? È uno che già è stato condannato a diversi gastoli, ha ammazzato un sacco di gente, fra l'altro uno degli autori della strage di Capaci, dell'omicidio di Boris Giuliano, e anche dell'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, un ragazzino di 13 anni, figlio di un pentito di mafia, che fu fatto sequestrare da Leo Luca Bagarella, tenuto sotto sequestro per due anni e infine disciolto nell'acito. E quindi Luca Bagarella è un tipo così. E quindi Lirio Abate chiaramente ha anche dovuto cambiare residenza per un periodo, ma non ha cambiato il suo modo di fare giornalismo perché da allora, da cinque anni, continua comunque a realizzare le sue inchieste, in particolare sulla mafia, ma non solo, perché si è occupato molto anche di traffico di esseri umani, per esempio, anche si è occupato del mondo dell'anarco-insurrezionalismo, anzi mi pare che ha ricevuto qualche minaccia anche da quel settore, da quelle parti là. Ecco perché comunque ci sembra una delle persone più adatte a parlare di coerenza. E allora Lirio, cos'è secondo te la coerenza? Beh, innanzitutto grazie, grazie, buonasera, grazie per l'invito che ho colto con grande onore. Ho sentito parlare benissimo dei miei colleghi di questa iniziativa, ma anche della gente che viene ad assistere e partecipa a questi incontri. Quello che mi è venuto in mente quando abbiamo pensato a questo dibattito, a questo dialogo qui in mezzo a voi è la parola coerenza. E la coerenza è un po' quella parola che in questi anni è un po' forse mancata, in chi ci ha amministrato, in chi ci ha guidato, in chi è stato per tanti versi sopra le nostre teste a gestire la nostra vita. Perché la coerenza è la uniformità tra quello che si dice e quello poi che si fa. Si può anche cambiare idea, perché tutte le persone che hanno un'intelligenza possono cambiare idea, possono ammettere di aver sbagliato o di essere caduti in errore, si può ammettere i propri sbagli, si può anche cambiare idea. Ma quando si ha un'idea, la si cambia, o comunque l'idea, il modo di fare che uno ha, deve essere coerente con le azioni che si porta avanti. Una sostanza della propria vita, o almeno di quello che si dice di portare avanti è la propria vita, nell'azione politica, sociale, professionale, bisogna che questa rispecchi le azioni pratiche. Bisogna che questi siano coerenti con quello che si fa. Vedete, in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni abbiamo sentito sempre più spesso parlare del fatto che si vuole combattere la corruzione nel nostro paese. Un ministro ha detto pochi giorni fa che se si dovesse togliere, comunque portare via la corruzione in Italia sarebbe due o quattro punti di PIL una cifra spaventosa, grossissima. Il problema è questo, che si parla di fare la lotta alla corruzione ma poi non si fa una legge. I politici parlano di voler contrastare questo purtroppo non fenomeno, ormai è una piega, ormai è un rituale ma nessuno in Parlamento si impegna veramente a varare questa legge. Molti dicono perché nessuno fa una legge contro se stessi. Ecco, vedete, questa non c'è la coerenza fra chi va davanti a una telecamera o a uno studio televisivo a dire che bisogna combattere i corruttori ma poi non si fa una legge. Altrettanto poco coerente anche chi sostiene che bisogna combattere le mafie la criminalità organizzata e poi questo impegno della criminalità organizzata la si trova soltanto a parole mentre con i fatti ci sono pochi mezzi messi a disposizione delle forze dell'ordine e dei magistrati ci sono pochi finanziamenti messi a disposizione di chi opera sul territorio a contrastare le mafie la criminalità organizzata vedete non c'è coerenza fra quello che si dice e quello che poi si fa che praticamente si fa la coerenza invece dovrebbe appunto portare dritti dritti con quello che in qualche modo vogliamo divulgare quello che ognuno di noi fa nella nella nostra vita qui siete in una cittadina dove ci sono delle scuole ne parlavamo prima mi dicono appunto un livello medio alto di cultura i ragazzi sanno cosa sono i libri ed è coerente che proprio per questo motivo vengono fuori poi iniziative come queste che in questi giorni state vedendo e stanno maturando nella vostra città questa è coerenza però quella che manca è la coerenza di chi invece ci dirige e loro proprio per questo motivo è opportuno ricordarle è opportuno farla emergere che purtroppo non sempre chi sta sopra di noi fa della coerenza un proprio baluardo ma cambia spessissimo la propria idea cambia spessissimo il proprio mondo di fare e non è collegato alla pratica alla teoria tutto ciò va al discapito della gente vedete quello che sta vivendo la Puglia in una determinata zona della Puglia che è l'inquinamento ambientale la situazione dell'Ilva una da una parte pensa all'economia alla disoccupazione che potrebbe creare un'eventuale chiusura definitiva dello stabilimento ma dall'altra c'hai davanti delle polveri un veleno nell'aria che sta continuando e continua ad uccidere uomini ragazzi bambini e allora bisogna essere coerenti con delle azioni che si professano si vuole rispettare l'ambiente ecco allora bisogna anche rispettare l'uomo bisogna però anche essere coerenti bisogna rispettare l'uomo bisogna anche mettere nelle condizioni umane economiche sociali di vivere la propria vita perché fino adesso non è stato fatto tutto ciò la coerenza per molti aspetti viene meno e allora viene meno anche per un fattore economico viene meno per un fattore politico vedete e poi ritornano sempre i fattori politici non sapevo che qui avevate questo mio libro i complici che è uscito nel 2007 non è un libro di adesso che il contenuto insieme a Peter Gomez abbiamo fatto un lavoro giornalistico di inchiesta giornalistica sul campo e nel 2007 abbiamo raccontato di politici di persone che stavano per avere un traghettamento politico verso ruoli istituzionali molto elevati ma questo non lo sapevamo e li abbiamo raccontati e abbiamo raccontato le loro complicità politiche noi non siamo magistrati non siamo investigatori siamo giornalisti il giornalista può fare può mettere in evidenza delle complicità morali politiche e l'abbiamo fatto raccontando i politici di destra e di sinistra uno per tutti vedendo quello che c'è lì dentro e che questo personaggio questo uomo politico per quello che abbiamo come lo abbiamo raccontato in qualche modo vicino a uomini di Bernardo Provenzano e per i suoi contatti con altri mafiosi nonostante questo nonostante che il libro ha avuto una grande diffusione politicamente parlando questo signore è diventato presidente del senato allora dico che qual è la coerenza qual è la coerenza di chi dice in campagna elettorale maggiore sicurezza lotta alle mafie poi invece andando al governo non c'ha nessuna sicurezza alle città né fa le lotte alle mafie anzi dice di fare le lotte alle mafie fa i codici antimafia e li fa per avere grande pubblicità dice è stato operato un codice antimafia poi lo vai a leggere e ti accorgi che quel codice uno è scritto male anche con grandi errori di di battitura ma non questo ma con grandi ripetizioni e poi è un codice che così come è scritto sembra un favore alle mafie a cominciare dai sequestri dei beni e dai beni che così come vengono impostati da questo nuovo codice ritornerebbero di fatto agli sessi mafiosi e di fatto depotenzia molto il ruolo dei magistrati e degli investigatori e poi taglia i finanziamenti alle forze dell'ordine ecco non c'è coerenza fra quello che si dice e poi quello che si fa e questo libro dimostra di fatto la mancanza e io spero adesso ricordando la parola coerenza che ricordandolo stasera altre volte in altre occasioni è stato è stato fatto che prenda quota che prenda valore riprenda valore tutto ciò e che qualcuno incominci a mettere in fila i tasselli per comprendere che non tutto quello che appare è così com'è la coerenza quindi deve essere innanzitutto una virtù di singoli cittadini nei loro diversi ruoli magistrati giornalisti politici però deve essere anche una virtù delle istituzioni dello Stato sembra che non sempre questo sia stato vero sembra che addirittura ci sia stata negli anni 90 in particolare una trattativa tra Stato e mafia forse anche più di una forse anche due o tre trattative prima di entrare nei dettagli che fra l'altro tu hai studiato molto bene e hai raccontato anche un po' nel tuo libro ti volevo fare una domanda di fondo di principio secondo te può essere accettata una trattativa di questo genere fra Stato e mafia diciamo tra virgolette per a fin di bene per far cessare le stragi far cessare le bombe quindi in qualche modo limitare il danno secondo te può essere amissibile anche con una motivazione di questo tipo una trattativa del genere no ti rispondo semplicemente no il semplice fatto che con con la mafia non si tratta con la mafia non si discute con la mafia si agisce con l'azione delle leggi e del codice penale guardate il 92 è un anno per chi l'ha vissuto diciamo direttamente e dentro certi versi in maniera professionale come l'ho vissuta io in cui lo Stato era veramente in ginocchio c'era stato un primo segnale a marzo è stato ucciso Salvo Lima il 23 maggio c'è la prima grande strage ci sono 400 metri di autostrada che vengono fatti saltare con 500 chili di esplosivo c'è un cratere che si apre enorme un botto così forte che fa che fa scuotere i sismografi del che rivelano come se ci fosse stata una scossa di terremoto vicino Palermo sull'autostrada che dall'aeroporto conduce alla alla città muore Giovanni Falcone muore Francesca Morvillo muoiono i poliziotti schifani lo Stato è incredulo per quello che è accaduto cerca di capire cosa può accadere perché una reazione così forte perché Giovanni Falcone che poteva essere ucciso così come poi abbiamo scoperto da quello che ci ha raccontato i venditi a Roma dove era molto più libero anzi a volte dall'ufficio scendeva in strada anche da solo senza senza la scorta si sentiva molto più rilassato ecco poteva essere ucciso lì se era l'obiettivo che dovevano a cui dovevano mirare invece no doveva essere fatto una cosa eclatante una cosa molto forte un'azione di guerra e questa cosa è un po' ha scosso lo Stato e poi il 19 luglio come se fosse Beirut nel centro di Palermo viene fatta esplodere un'automobile una Fiat 126 imbottita di tritolo e muore Paolo Borsellino con i suoi agenti di scorta i palazzi sono sventrati quando sono arrivato mezz'ora dopo l'esplosione in Via D'Amelio c'era questo fumo intenso questo odore acre poi una puzza una puzza che ci sono ci sono momenti in cui in cui la come se la rivivessi questa puzza che non è una puzza normale una puzza di carne bruciata che mischiata alla combustione provocata dall'incendio delle automobili ma un odore che ti rimane dentro per cui si è sconvolto di fronte a questa azione militare terroristica della mafia della mafia che poi resti lì imbambolato e dice lo Stato cosa può fare e lo Stato ha fatto una cosa forse fra le più sbagliate che poteva fare quella di chiedere aiuto di inginocchiarsi di fronte alla mafia la mafia vive di questi segnali vive di questi fatti voleva proprio quello voleva proprio che lo Stato si inginocchiasse di fronte a loro loro hanno fatto vedere la loro potenza e allora che trattativa c'è stata e c'è stata avviata naturalmente è stata avviata per evitare altre stragi invece ha provocato proprio l'effetto contrario ha provocato proprio un voler armare ancora di più le armi dei mafiosi perché dopo Falcone dopo Borsellino i mafiosi sono spostati al nord sono arrivati a Roma hanno colpito la chiesa San Giovanni in Velabro con una bomba e poi sono arrivati a Milano e poi sono arrivati a Firenze nell'arco di pochi mesi l'estate del 93 è stato brutale vittime innocenti famiglie piccoli bambini a Firenze sono morti vittime innocenti di questa cosa di questa azione che il Cosa Nostra aveva fatto perché lo Stato aveva offerto il proprio braccio perché si era inginocchiato e lì i mafiosi hanno capito che potevano ottenere potevano avere ancora di più potevano avere quello che non avevano mai avuto in precedenza lo Stato si dimostrava debole e la mafia in quel momento aveva vinto allora dimostrare questa debolezza dimostrare questa ecco questa indecisione mettersi a mettersi a lì sulla soglia della casa del mafioso a chiedere col cappello in mano cosa cosa volete per la democrazia per il nostro paese non è stato un grande momento per questo dico no no ora si aprono tante situazioni ci sono delle inchieste giudiziarie in corso ce ne sono state in passato la cosa che mi stupisce più di tutte è che chi sa veramente certe situazioni come sono andate dal di dentro non dico e non mi riferisco ai mafiosi ma chi all'epoca può aver dato l'ok a due carabinieri per andare a trattare con i mafiosi oggi non parlo comunque a stento ricordano e questa ancora di più è una piega che ci fa male per la democrazia del nostro paese in ogni modo con la mafia non si tratta ovviamente sono in corso delle inchieste su queste su questa trattativa inchieste che coinvolgono anche personalità che hanno ricoperto ruoli importanti come come ministri negli anni 90 e nell'ambito di questa inchiesta si è innescata anche una diciamo così polemica che riguarda anche il capo dello stato che ha sollevato un conflitto di attribuzioni di fronte alla corte costituzionale per le intercettazioni telefoniche ordinate dalla procura di palermo nei confronti del senatore mancino all'epoca ministro dell'interno in cui è intercettato indirettamente anche lo stesso presidente della repubblica secondo te questo conflitto di attribuzioni è qualcosa che rischia in qualche modo di far fallire l'inchiesta oppure è uno strumento che legittimamente il capo dello stato ha utilizzato per chiarire un dubbio interpretativo una lacuna legislativa che probabilmente c'è sì allora partiamo da un fatto che questa lacuna questa azione del curinale non intralcia minimamente l'inchiesta giudiziaria l'inchiesta procede non è l'inchiesta al reato trattativa perché non esiste l'inchiesta è i reati per cui sono imputate 12 persone Mancino è imputato soltanto è indagato perché è stato chiesto il rinvio a giudizio per cui il ruolo da indagato passa imputato perché è soltanto accusato di falsa testimonianza al piede così come Conso ci sono accusati per la cosiddetta trattativa un ex ministro che è Mannino un senatore attuale della Repubblica che si chiama Dell'Utri e poi il prefetto ed ex generale Mario Mori un colonnello del Carabinese che si chiama De Dono e via discorrendo di che cosa sono accusati sono accusati di avere in concorso fra loro insieme a Provenzano Riina figlio di Ciancimino e questi mafiosi della cupola attentato a corpi della dello Stato cioè hanno fatto le minacce al nostro corpo istituzionale ai nostri ruoli istituzionali cioè allo Stato per cui non c'è un ruolo c'è l'accusa di trattativa e su quello si sta procedendo ora mediaticamente le intercettazioni che hanno riguardato Mancino in cui parla con il Presidente della Repubblica diciamo hanno un po' confuso le idee su questa inchiesta quelle che sono state perché se tu indaghi su un Mancino e ti accorgi che di fatto non ti dice la verità nasconde certe cose non si ricorda di aver incontrato Paolo Borsellino questa è una delle cose che in effetti c'è in quel periodo nel 92 in cui Borsellino era su tutte le prime pagine dei giornali in televisione eccetera stiamo parlando all'indomani delle stragi dell'uccisione di Giovanni Falcone e tu diventi Ministro dell'Interno comunque sei un parlamentare non ti ricordi di aver stretto la mano a Paolo Borsellino mi stupisce ma comunque può anche per cui in ogni modo però siccome tu sei il PM e sei uno che indaga e non sei un giudice non è un giudice scusa metto il telefono sotto controllo a Mancino per cui mettendo il telefono sotto controllo a Mancino Mancino ha chiamato l'universo mondo istituzionale fra cui anche il Quirinale a questo punto è una cosa distaccata rispetto all'inchiesta sulla trattativa e il Quirinale scopre che ci sono delle telefonate che riguardano il Presidente della Repubblica dai giornali sono indiscrezioni non si capisce bene cos'è allora a questo punto scopre che dentro l'ordinamento giudiziario c'è una piccola falla e cioè che quelle intercettazioni che non entravano in questa inchiesta in cui davanti al GIP ci sarà Mancino Mori e company Provenzano quelle telefonate verranno distrutte però ed è scritto nel codice di procedura penale per distruggere una prova perché di tale si tratta perché è stata ordinata da un giudice che è l'intercettazione per distruggere questa intercettazione che non sarà utilizzata per cui è rilevante per la procura deve sempre passare al vaglio dalle parti delle parti e davanti a un giudice per cui l'intercettazione deve essere aperta sbobbinata raccontata alle parti dicono queste cose la procura dice proprio perché dicono queste cose per noi sono irrilevanti e poi è un giudice che dice ok possiamo distruggere o meno e le parti si possono anche opporre magari dice no siccome dice ah questa vocale mi serve per la mia difesa mi oppongo però a quel punto proprio perché viene aperta alle parti si può conoscere il contenuto di conversazioni private fra il Presidente della Repubblica e un indagato ora che Napolitano possa aver detto delle cose private sue private con Mancino ci sta tutta sono amici sono ex colleghi di Senato parlamentari di lunghissimo corso ma che questa possa diventare strumento per fare polemica e bloccare l'inchiesta ne corre ora non solo a consulta sicuramente accoglierà diciamo perché c'è questo vuoto legislativo perché che cosa solleva il Presidente della Repubblica dice signori magistrati vero avete ragione voi per procedere alla distruzione delle intercettazioni dovete fare quello che c'è scritto nel codice penale però a me non piace perché il Presidente della Repubblica deve essere coperto in qualche modo anche delle sue conversazioni private per cui chiedo che questa distruzione avvenga senza la sbobbinatura comunque che passi direttamente al giudice e il giudice ne ordini la distruzione senza che queste vengano svelate siccome manca proprio questa c'è questo vuoto normativo e allora lui lo sta facendo emergere però quello che manca sui giornali sui dibattiti eccetera è quello che hanno fatto Mori De Donno De Lutri Rina Provenzano in quel periodo fra il 92 e il 93 e manca questo perché vedete si è spostato l'informazione e il mirino dei giornali e delle tv proprio su questo argomento cioè in qualche modo mirare su altro e non sul fatto reale cioè sul fatto penalmente e gravemente rilevante che è la trattativa la trattativa la vogliono spostare sul presidente che può avere torto ragione eccetera in ogni modo Napolitano non c'entrava niente con la trattativa non c'entra nulla di tutto ciò ma spostano lì e allora la cosa che mi chiedo è chi è che manovra tutto ciò chi è che manovra è lì in maniera coerente l'informazione facendo delle copertine che sono veramente da ricatto parli delle copertine di panorama parlo della copertina di panorama parlo del fatto che stanno avvelenando il giornalismo questo modo di fare di trasportare il sentito dire la diceria con un titolo che è ricatto al presidente qui se un ricatto c'è stato è stato fra il 92 e il 93 ed è stato fatto allo Stato è stato fatto da uomini che oggi siedono in Parlamento come Dell'Utri che continua a fare il senatore nel nostro Parlamento che continua ad essere un grande un grande amico di un ex presidente del Consiglio che si è sempre sottratto finché ha potuto davanti a EPM a spiegare questa sua situazione e soltanto in ultimo ha finalmente accolto questa citazione e nonostante ciò ha spiegato che per lui Dell'Utri è una brava persona e che essere condannati per concorso esterno in associazione mafiosa non è nulla di rilevante perché è un reato così che è un reato di frequentazioni non perché è mafioso e allora mi chiedo sono morte nel 92 magistrati poliziotti sono morte nel 93 persone innocenti tutte perché c'è stata una trattativa in qualche modo perché lo Stato si è offerto di trattare con i mafiosi e i mafiosi hanno poi l'hanno presa molto sul serio questa offerta e mi chiedo chi ha coperto quella trattativa mi chiedo chi è stato a dire a quei due carabinieri Mori e De Donno è andata avanti mi chiedo chi è che ha mobilitato sul territorio una serie di altri investigatori a depistare anche le indagini della strage di Via D'Amelio mi chiedo chi è che politicamente ha manovrato è stato il regista di questa di questa grave situazione che oggi a vent'anni di distanza ci chiediamo ancora come è stato possibile e mi chiedo com'è che a vent'anni di distanza molti politici alcuni politici iniziano a ricordare ed altri invece non ricordano affatto mi chiedo che coerenza c'è in queste persone che dicono di combattere o di voler combattere le mafie la mafia con quella che è la loro azione poi personale che è completamente opposta a quello che fanno il procuratore nazionale antimafia Grasso commentando anche questo presunto scoop di panorama con queste presunte ricostruzioni delle telefonate fra Napolitano e Mancino peraltro smentite anche dai giudici mi pare della procura di Palermo ha parlato di menti raffinatissime usando fra l'altro un'espressione utilizzata anche da Falcone molti anni prima quali possono essere queste menti raffinatissime Grasso faceva riferimento a quella affermazione che Giovanni Falcone diede all'indomani del fallito attentato alla Daura che lo riguardava ma faceva riferimento a menti raffinatissime che non erano con nome e cognome erano a un sistema di potere a un gruppo di potere che in quel momento gestiva le cose cioè Falcone se avesse saputo il nome così come adesso anche Piero Grasso se avesse saputo il nome della mente raffinatissima avrebbe avviato un procedimento penale perché erano magistrati e avevano l'azione dell'applicatorietà dell'azione penale e fanno riferimento a questo gruppo a questi apparati per cui oggi mente raffinatissima perché guardate non c'è quel pezzo lì che ha fatto panorama adesso tu sei dell'espresso se sei un concorrente no quel pezzo lì molti giornalisti italiani avrebbero potuto scrivere per il proprio giornale per tutto quello che si ascoltava o si raccoglieva nei corridoi eccetera di indiscrezioni vocerie non c'è nulla di concreto è stato fatto è stato utilizzato uno strumento giornalistico per lanciare un piccolo messaggio è stato sono state utilizzate delle dicerie delle voci per mettere su una cosa che purtroppo non c'è nulla di concreto se avessero avuto qualcosa di concreto avrebbero iniziato a dire quante sono le telefonate fra Mancino e Napolitano che non lo sa nessuno non lo sa semplicemente nessuno quella cosa lì purtroppo cioè da come la vedo io ha un duplice aspetto uno screditare ancora di più l'immagine non proprio di Napolitano ma come di presidenza della Repubblica due quella di buttare ancora di più fango su chi indaga sulla trattativa cioè sui PM dice perché queste cose sono uscite perché sono delle intercettazioni queste intercettazioni sono chiuse in un armadio non sono nemmeno state sbobbinate sono dentro un file allora siete voi magistrati che l'avete fatto per cui screditare anche questo apparato quell'apparato che fino ad oggi sta cercando di tirar fuori quello che si può da una trattativa quella è il vero obiettivo la trattativa per cui elementi raffinatissime ci sono io penso che se Grasso ne conoscesse l'identità e il nome li avrebbe già denunciati avrebbe già fatto aprire un procedimento però penso che si riferisce più e si riferisce più a questo apparato più che a una singola persona senti parliamo un attimo di questo libro qui c'è la foto di Bernardo Provenzano in diversi momenti della sua vita lui è stato tante cose è stato un assassino terribile uno dei principali responsabili della mattanza della guerra di mafia degli anni 80 con un migliaio di morti poi è stato forse il regista di questa grande trattativa fra stato e mafia e poi al momento dell'arresto era così ed era un vecchietto che si nascondeva e che campava con una dieta di cicoria e di ricotta quante cose in sé chi era veramente Bernardo Provenzano Bernardo Provenzano è l'uomo che vedete è il vecchietto e poi l'immagine che che te lo trasforma sembra trasformato in un innocuo anziano con la dantiera il pannolone Bernardo Provenzano è la mente che nel 92 93 fa la trattativa è la mente della mafia che riesce a circondarsi di consulenti e riesce ad entrare in borsa riesce a trasformare quella mafia sanguinaria di Totorina in una mafia imprenditrice in una mafia che investe è investito in una mafia che con nome e cognome come la raccontiamo è riuscita a portare propri uomini in Parlamento sono riusciti a portare onorevoli e senatori in Parlamento tutti uomini di Bernardo Provenzano perché ha capito che la democrazia gli affari i finanziamenti si gestiscono così e non con la forza delle armi perché sanno bene l'hanno visto con le stragi quella che era stata l'azione di Totorina cioè quella forza distruttiva che quello portava a una repressione portava veramente a far incazzare lo Stato e a nientarti siccome la mafia è mafia proprio perché va a bracetto con la politica altrimenti sarebbe gangsterismo sarebbe camorra non per dispezzare la camorra ma perché la mafia ha un suo vertice una sua organizzazione e ha una sua mente che è questo appunto di Provenzano tanto che è riuscito a inquinare un Parlamento quel Parlamento quel mio Parlamento del mio Paese che fa le leggi per me per voi e per i miei figli e allora a questo punto quell'immagine del vecchietto l'11 aprile 2006 finalmente si svelò al mondo perché per 42 anni di Bernardo Provenzano non si aveva traccia alcuna né di alcuna fotografia sapevamo che era vivo addirittura per farsi operare alla prostata era riuscito arrivare per due volte a Marsiglia dove è stato sottoposto intervento chirurgico e lì i magistrati avevano recuperato il DNA e avevano avuto la prova dell'esistenza in vita di Provenzano Provenzano è questo una grande intelligenza un grande uomo d'affari purtroppo che è riuscito a traghettare le armi alla politica a traghettare la mafia da sanguinaria in imprenditice ed è riuscita a inquinare il mio mondo il vostro mondo e a fregarci e continua ancora oggi purtroppo a fregarci tu nel libro riporti anche una frase una dichiarazione di Buscetta rilasciata nel 1999 quindi più di vent'anni fa dice Buscetta la mafia che io ho conosciuto non tornerà più di Cosa Nostra faranno parte uomini con grandi uffici e centinaia di impiegati sotto sotto anche loro agiranno come Cosa Nostra saranno molto rispettati e riveriti era un preveggente Buscetta? era un uomo di mondo era un uomo che conosceva bene la mafia ma conosceva anche bene l'imprenditoria e la società civile forse era uno che proiettava e ha proiettato anche le sue azioni per molti anni in avanti infatti non a caso per anni nelle sue prime dichiarazioni a Giovanni Falcone si limitò ad raccontare i fatti fra mafia e politica perché disse proprio a Falcone che quello non era il momento perché lo Stato non era pronto a progettare se stesso e che c'erano ancora molte cose da superare e allora era un uomo che conosceva vedete i mafiosi conoscono sempre il futuro così come conoscono bene il fatto che durante le campagne elettorali all'ultimo momento si piazzano e appoggiano il candidato e il candidato che appoggiano vince sempre non perché la mafia ha sposti grandissimi voti ma perché la mafia sa annusa il territorio e quelle poche migliaia in alcune zone anche centinaia di migliaia di voti riesce a dare un contributo vincente al politico in buona sostanza la mafia sa e indovina sempre il cavallo vincente in una campagna elettorale il problema è che il cavallo non si tira mai indietro di fronte ai voti della mafia senti accanto a questa mafia così diciamo efficace sia nella sua azione politica e anche imprenditoriale però tu racconti anche di come la mafia ma l'andrangheta o la camorra sia ancora legata veramente ai peggiori stereotipi delle nostre terre meridionali per esempio qualche tempo fa qualche settimana fa in una inchiesta sull'espresso è raccontato di come l'andrangheta continua ad uccidere le donne accusate o sospettate di infedeltà di tradimento si parla di centinaia anche di donne ammazzate in questo modo quello che ci siamo accorti di una cosa mi sono accorto di una cosa che in Calabria bisogna bisogna starci infatti la frequento spessissimo per moltissime settimane nell'arco di un mese e mi sono accorto di questo che la Calabria ha bisogno di essere scossa in maniera nazionale che cosa accade e cosa c'è ancora oggi nel 2012 che in Calabria esiste il delitto d'onore il delitto d'onore che ricorderete tutti quello che è stato che è stato tolto dal codice penale che in qualche modo salvaguardava l'uomo che uccideva la donna che uccideva per per onore per salvaguardare il proprio onore per il tradimento subito vedete in Calabria questa legge d'onore l'andrangheta che è una se non forse l'unica mafia che è rimasta in Italia a continuare a utilizzare questi mezzi tribali essere molto potente sanguinaria economicamente forte nella zona della piana di Gioia Tauro ma anche all'esterno applica questa legge e viene applicata alle donne delle famiglie mafiose dell'andrangheta le donne sanno bene che se anche uno sguardo con un altro uomo c'è la moglie o la figlia c'è la moglie di un boss o la figlia di un boss sposata perché si sposa un'altra delle cose è che queste ragazze in Calabria vengono in qualche modo diventano mamma anche a 15 anni a 14 sono già fidanzate a 17 fanno la fuitina e a 20 anni sono già donne in un certo mondo che vivono in questa bolla di mafia e di indrangheta basta che guardano e sanno che già lo sguardo verso un altro uomo o il fatto che nelle case ormai di tutti è entrato internet e internet ti porta ai social network e ti porta ad avere un contatto esterno e fatto senso di incominciare a chattare con un'altra persona e riscontrare un'altra persona che non conosce la tua vera identità ma che è attratta da quello che dici da quello che realmente sei di donna di donna intelligente vera verace non perché sei la figlia del boss del capo o perché ti vedono in fotografia ecco conoscono un nuovo mondo e queste donne una volta scoperta dai genitori perché la legge del codice d'onore è che deve essere lavata da da un familiare della donna o dal fratello o dal padre viene uccisa e queste donne sono state uccise perché hanno chattato su facebook perché hanno guardato un altro uomo o perché da vedove da vedove dopo anni dalla morte del marito dopo 3-4 anni dalla morte del marito hanno tentato di rifarsi una nuova vita con un'altra persona alla luce del sole e questo non è stato accettato e sono state uccise ma questi delitti il problema è che non è stato diciamo ci sono un sacco di delitti di donne no perché la società ti copre perché questi delitti vengono fatti in maniera tale che vengono camuffati in incidenti in incidenti domestici suicidi e quando non è possibile in persone scomparse di donne che spariscono improvvisamente e di questi casi ne sono stati registrati già 20 e allora almeno delle cose che abbiamo scoperto siamo andati a rivedere nel 2012 esiste tutto ciò e per fare tutto ciò c'è anche una comunità che protegge questi delitti e ci sono adesso iniziano delle donne che iniziano a ribellarsi che raccontano tutto ciò e che poi ammettono ma soprattutto sono coscienti del fatto che il semplice gesto verso un altro uomo o lo sguardo che non era il marito dovevano essere uccise e loro accettavano questa questa morte che mondo siamo non lo so però se nella realtà queste cose ci sono nelle società nel territorio queste cose ci sono non capisco perché nessuno non le denuncia e perché occorre sempre che qualcun altro agisca per conto loro questa volta è stata l'informazione che ne solleva il caso altre volte invece si deve delegare alla magistratura un altro fatto queste persone vivono non dicono il terrore ma sotto queste leggi ed è una regione che fa parte dell'Italia sono persone che sono italiani e sono donne che purtroppo non hanno avuto e non hanno la possibilità di essere coerenti con quello che di circonda allora Lirio abbiamo commentato con te la parola coerenza allora c'è una domanda stiamo in chiusura però quindi solo questa domanda Arturo Di Corinto sono un collega di Lirio lavoriamo per lo stesso gruppo e secondo me in questa bellissima ampia panoramica che avete fatto per aiutarci a ricordare che la mafia è una montagna di merda come diceva Peppino Impastato potremmo sottolineare altre due cose io conosco il lavoro di Lirio e l'ho sempre apprezzato tranne quando scrive dei black block non mi convince ma sul lavoro sulla mafia mi ha convinto molto due cose una è che l'isolamento che si sta producendo intorno ai magistrati Nisseni di Palermo questa questione della trattativa è molto pericolosa e ci deve riportare con la memoria agli anni infausti degli omicidi di Falcone e Borsellino che furono a loro volta isolati e per questo la mafia potrebbe colpirli più facilmente non dico che non l'avrebbe fatto importante quello che avete detto che con la mafia non si tratta ma bisogna anche ricordare secondo me che con la mafia non si convive perché questa fu la sfortunata frase di un ministro della Repubblica di area leghista mi pare Lunardi e la terza cosa riguarda il fatto che c'è un motivo per cui Panorama ha fatto quel pezzo sul ricatto al presidente perché in realtà è il gruppo a cui fa riferimento Panorama e quindi il suo titolare il proprietario Silvio Berlusconi che sta provando a fare un altro tipo di trattativa che è una trattativa sulla giustizia mettendoci in mezzo questa storia delle intercettazioni di Napolitano in realtà vuole forzare il Parlamento a fare una legge restrittiva sulle intercettazioni che svuotino questo strumento così importante del suo carattere che svuotino questo strumento della sua forza della sua potenza secondo me è importante che sottolineiamo queste cose e se siete d'accordo con me magari aggiungere due parole che voi siete degli esperti sì grazie la coerenza di cui parlavamo all'inizio il fatto di di svuotare gli strumenti della lotta alla mafia mentre si dice lottiamo alla mafia poi dall'altra parte invece intervieni con una legge per impedire che le intercettazioni si possano fare già di fatto viene impedito moltissime volte in moltissimi casi quello è un pericolo perché vedete dopo che hanno fra virgolette spazzato via i collaboratori di giustizia hanno spazzato via tutta una serie di altri strumenti legislativi per la lotta della mafia l'unica che restava perché era la più pura le altre sono state spazzate via perché dicevano che appunto i pentiti non è attendibile venivano influenzati venivano imboccati eccetera ma sono quelli che comunque dal di dentro ti svelano un'organizzazione segreta quale è la mafia rimaneva l'intercettazione l'intercettazione pura siamo noi stessi sono loro stessi che ne parlano sono loro stessi che si svelano e allora a questo punto siccome sono stati svelati troppo volte e sono stati presi veramente troppe volte in castagna allora stanno tentando in tutti i modi per farne venire meno questo strumento e quella questa potrebbe essere la strategia la strategia che viene utilizzata da queste menti raffinatissime per per portare via le intercettazioni come strumento indispensabile per la lotta alla mafia questo è purtroppo bene Lirio come ultima cosa che ti chiedo abbiamo sinora commentato la parola coerenza che è una parola che stiamo cercando un po' di ribadire ed è una parola che il festival diciamo ti ha suggerito adesso ti chiediamo per chiudere questo dibattito di proporre tu a tutti noi un'altra parola da reinventare non so se è stata reinventata o meno però quello che mi viene in mente parlando di questa cosa è onestà forse bisognerebbe ritornare a valutarla analizzarla meglio forse l'onestà è quella che che mi viene in mente parlando di tutto tutti questi argomenti può darsi che forse è stata già trattata da qui non lo so però forse no però è quella che secondo me andrebbe rivalutata e andrebbe spiaccicata in faccia a molte persone bene io ringrazio Lirio Abate so che magari alcuni di voi volevano intervenire purtroppo c'è un altro importante dibattito tra poco e quindi vi ringrazio e cedo il microfono a Filippo buonasera grazie Lirio avete capito che la giornata è sempre più complicata allora capisco che sta calando l'umido e incomincia a fare freddo abbiamo deciso quindi di andare al caldo di spostarci a San Giuseppe il prossimo appuntamento quindi non inizierà subito ma non appena tutti quanti voi chi vorrà seguire Maurizio Viroli quindi vi diamo il tempo di spostarvi e quindi ci sposiamo tutti quanti a San Giuseppe grazie Auditorium San Giuseppe è sempre in piazza Castello a due passi